Il porcellum è ancora lì che si rotola nella fanghiglia nella quale normalmente si rotolano porcelli e familiari suoi. Il rischio è che andiamo ancora una volta a votare con il porcellum stesso. Non è vero che l'unica soluzione per superare il porcellum è la proposta che oggi giace sul tavolo, comunque viene raccontata a nome del tavolo dei segretari dei partiti di maggioranza. Questa è la proposizione, la linea ufficiale del PD. È completamente diversa da quella che viene raccontata come la bozza Violante. Quindi è in qualche modo la rappresentanza del PD che deve spiegare quale linea ha proposto a nome del PD al cosiddetto tavolo di maggioranza. L'onorevole Violante tratta pensando di avere un mandato, immagino. L'onorevole Violante tratta perché sa di avere un mandato, è fuori di dubbio, è chiaro, è a tutti noto, il mandato è il mandante dell'onorevole Violante. Esiste all'interno del partito una linea che coerentemente viene portata avanti, è stata portata avanti negli anni che era finalizzata a mettere tra parentesi questo incidente che chiamiamo Seconda Repubblica, tentativo di Seconda Repubblica. Questa è la pura verità. Siamo dentro un passaggio drammatico della storia italiana. O il tema è come si cura la malattia della democrazia italiana, come si consente per esempio da un lato di far vivere nelle istituzioni piuttosto che l'antropologia degli scilipoti, come si fanno vivere le grandi culture politiche di questo Paese e dall'altro come si consente agli elettori di indicare la coalizione destinata a governare e anche la coalizione diciamo che dovrà nel ruolo di opposizione controllare chi governa impedendo che vinca il partito del gattopardo. Le ipotesi che non contemplano il vincolo coalizionale sono ipotesi della palude legate al partito del gattopardo, cioè chiunque vinca vince il trasformismo. Noi riteniamo che sia assurdo che in una democrazia evoluta i cittadini debbano andare a votare senza sapere il loro voto poi a quale coalizione va a finire, quale gruppo dovrà assumere il governo e quale programma portare avanti. Ora può andare bene a qualche segreteria di partito dopo l'elezione stare a destra e a sinistra a secondi che offre di più, ma questo è un mestiere più vecchio del mondo a cui noi non vogliamo partecipare. C'è necessità in un momento in cui questo Parlamento non rappresenta più l'Italia reale di ripartire da un disegno di legge finito che è stato voluto dall'Italia reale, 1.200.000 cittadini.